Ennesimo consistente sequestro di droga a Gela operato dalla polizia del locale commissariato ai ordini del dirigente Francesco Marino, assieme agli agenti di Niscemi, diretti da Andrea Monaco e della squadra mobile di Caltanissetta guidata da Marzia Giustorisi, sotto chiave sono finiti quasi 70 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata divenuta nelle campagne di Contrada Bulala, a destra della città, dove era stata coltivata e raccolta. In manette è finito un agricoltore gelese. Si tratta di Agatino Pasqualino, di 27 anni. L'accusa è coltivazione, produzione, detenzione e spazio di droga. I dettagli dell'indagine saranno illustrati domani mattina dal procuratore di Gela, Fernando Asaro, nel corso di una conferenza stampa convocata nel Palazzo di Giustizia. La settimana scorsa, durante una analoga operazione, nella zona di Contrada Spina Santa fu individuata una maxipiantagione di marijuana. Gli agenti delle squadre volanti e del personale della squadra di Polizia Giudiziaria, dirette dal commissario capo Laura Romano, assieme alla squadra mobile Nissena, con l'ausilio del reparto Prevenzione e Crimine Sicilia Occidentale di Palermo, tra le serre dove si coltiva pomodoro ciliegino, rinvennero mille piante di cana pendiana mature per la raccolta e altri 40 chili della stessa droga, già essiccata, frazionata in cassette e pronta per essere venduta. Il valore commerciale si aggirava intorno ai 3 milioni di euro. In quell'occasione furono arrestate e recluse nel carcere di Contrada Balate tre persone. Si tratta di Rosario Giannone, 58 anni, e dei figli Nunzio, di 36, e Giuseppe Salvatore, di 32 anni, tutti con precedenti specifici.